Archiviata la sconfitta interna con il Club Italia, il Soverato lavora intensamente in questa settimana per preparare l'ostica trasferta di Orvieto di domenica prossima. Siamo con il coach Barbieri. Innanzitutto presentiamo questa gara contro una squadra in salute che gode di un buonissimo stato di forma e che è in lotta per i play-off. È una squadra che sta facendo un giorno di ritorno strepitoso. Da quando hanno inserito Ginanneschi in pianta stabile, devo dire che hanno limitato veramente la percentuale di errore. Perciò da lì hanno iniziato a fare dei risultati importanti. Lo sappiamo che non sarà sicuramente facile, ma è uno scontro, come hai detto giustamente tu, importante per i play-off. Perché ormai siamo lì e perciò chi dovesse uscire vincente mette un piede importante verso i play-off. Il Soverato che sarà sicuramente dominato da una grande voglia di riscatto dopo la brutta prestazione di domenica scorsa che praticamente ha interrotto la striscia positiva di Vittorio. Quindi c'è un'occasione importante domenica in trasferta dove il Soverato quest'anno ha un grande cammino perché praticamente ha subito solo due sconfitte e ha vinto tutte le altre gare. Sì, è una cosa un po' particolare questa delle nostre trasferte. Effettivamente non è bellissimo da dire ma giochiamo meglio in trasferta che in casa. Adesso stiamo cercando di trovare qualcosina ma è un po' per il discorso palestra. Però siamo contenti di avere questa filosofia qua comunque di giocare sempre diciamo allo stesso modo in casa e fuori. E questo è logico che se dovessimo arrivare al play-off dove si gioca comunque con una certa regolarità in casa e trasferta può diventare una situazione di aiuto. Si è entrati nel rush finale di questa stagione, ci sarà un mese e mezzo intensissimo con turni infrasettimanali, un campionato equilibrato che conferma le aspettative nella parte alta della classifica. Questo è indice del fatto che ci sarà da lottare perché ci sono ancora tanti scontri diretti. Sì, i punti sono ancora tanti, gli scontri sono ravvicinati perché poi giocheremo di mercoledì con Olbia e devo dire che è veramente intenso, bello da vivere. Andiamo avanti così e noi come abbiamo già detto non ci manca molto per arrivare al play-off però ci vogliamo arrivare per giocarci la nostra fino in fondo. Ultimo arrivo in casa Vole Soverato è la palleggiatrice Natalia Gajewska, 23enne polacca che è qui da un mese però si è già inserita molto bene nel gruppo. Allora Natalia Gajewska che parla anche un po' di italiano chiediamo un suo giudizio su questo primo mese a Soverato, come si trova con la squadra in questa città? Sì, mi piace Soverato, mi piace la squadra. Campionato è difficile ma vorrei arrivare in play-off e giocare bene. Con le compagnoli di squadra facciamo un buono lavoro. Soverato è una buona città e mi piace la squadra e facciamo un buon lavoro.